If you are true that anybody used to be, she's not to blame you, shoot the tree, but once it falls, as you can see, stop the game. Hanno creato un sito, postato sui social, gestito un budget, prodotto uno spot e organizzato un evento. Proprio come un'agenzia di comunicazione, DICON si chiama quella, messa su da 26 studenti del liceo Salvemini di Bari, che con un progetto Studenti Lab hanno vissuto la loro prima esperienza da comunicatori, ciascuno con il suo ruolo, a cominciare dall'amministratore delegato. L'idea del progetto sportivo è arrivata da noi. La cosa più complicata è stata organizzare l'evento in pratica, perché è stato difficile per noi per la prima volta mettere insieme varie parti, pure preparare un rinfresco. La giornata dello sport, organizzata all'Angiulli, è andata avanti tra tornei di calcio, beach volley e staffetta, per i ragazzi al di là di quel che faranno da grandi un'esperienza da ricordare. Di questa esperienza che ti rimane? Eh, tanto. Dobbiamo ringraziare soprattutto Simona, perché ci ha dato veramente tanto e ci ha insegnato molto la partecipazione a questo progetto. Loro hanno ringraziato, ma chi lavora con loro? Eh, chi lavora con loro ringrazia loro, perché in realtà, quando ho iniziato questo progetto, chiaramente pensavo di dover insegnare io qualcosa a loro. Alla fine di questo progetto ho capito che la comunicazione è anche questo, cioè hanno insegnato loro qualcosa a me.